buongiorno a tutti voi e bentornati in questo nostro nuovo video vi presentiamo il volume apprendista meccatronico teoria tecnica e pratica autore massimo cassano editore libri sandit il costo del volume è di 34 euro 90 è un manuale veramente importante sono oltre 650 pagine vediamo i contenuti del libro ceni di metallurgia siderurgia e saldatura meccanica d'officina e utensilieria metrologia d'officina basi di meccanica automobilistica ispezioni e controlli dei veicoli motore freni sospensioni sterzo pneumatici e assetto ruote dinamica del veicolo trasmissione distribuzione sistema di scarico impianto elettrico ed elettronico illuminazione e gruppi ottici iniezione elettronica radiatore riscaldamento climatizzazione tagliandi di manutenzione telaio e scocca la diagnostica pratica dei difetti dei metri di trasporto con strumenti apparecchiature test drive stradali sicurezza segnaletica e dispositivi di protezione nelle officine automobilistiche norme di sicurezza nei centri di autoriparazione e revisione dei veicoli come detto è un volume veramente importante e speriamo che possa essere d'aiuto alle auto officine e a tutti quelli che ne vogliono sapere di più per quanto riguarda il tema dell'autovettura dal punto di vista tecnico è pratico se il video vi è piaciuto vi chiediamo di iscrivervi al nostro canale grazie per l'attenzione e al prossimo nostro video saluti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti